Buonasera a tutti voi, ci troviamo presso il Collegio Orcivescovile Castelli di Saronno per il secondo dei tre incontri sul Concilio Vaticano II. L'argomento di stasera sarà il Sacro Santum Concilium, la liturgia nella Chiesa. Il relatore è Don Norberto Valle, la Costituzione Sacro Santum Concilium non a caso è stato il primo frutto del Concilio Vaticano II. Perché dico non a caso? Perché questa Costituzione che ha previsto e ha effettuato questa grande riforma liturgica arriva dopo più di 60 anni dalla nascita del movimento liturgico che nasce ai primi del Novecento con Pio X, arriva dopo più di 15 anni della riforma liturgica di Pio XII, ma addirittura arriva a 400 anni dalla chiusura del Concilio di Trento. Infatti, se voi notate, la Sacro Santum Concilium ha avuto la sua approvazione definitiva il 4 dicembre del 1963. Il Concilio di Trento si è chiuso nel 1563, quindi abbiamo proprio 400 anni di distanza. Il Concilio di Trento è stato quel concilio che ha fissato la liturgia in schemi molto rigidi e per 400 anni la Chiesa è andata avanti a promuovere le varie celebrazioni liturgiche secondo appunto questo schema che ormai andava un pochettino stretto. E allora ecco il motivo per cui i padri conciliari si sono messi subito al lavoro cercando di realizzare questa riforma liturgica. Una riforma liturgica che aveva come primo obiettivo quello di estendere la lingua parlata, per dirlo in parole semplici, quello di far sì che ogni celebrazione liturgica potesse avvenire nella lingua corrente, in modo tale che il popolo sia in qualche modo non più spettatore ma in qualche modo concelebrante di questa liturgia. La liturgia è stata definita all'interno della Costituzione del Sacro Santo Unconcilio come la fonte e il culmine della vita della Chiesa. Ora lasciamo la parola a Don Norberto Valle che con più precisione ci parlerà della Sacro Santo Unconcilium e cercherà di delineare le linee fondamentali di questa Costituzione.